Benvenuti ragazzi, siamo i Brothers on PC, ovvero Binks e Ricky, e benvenuti a questa nuova recensione. Oggi vedremo Diablo 3, gioco uscito non molto tempo fa ed atteso da milioni di fan in tutto il mondo. Ma cominciamo subito. Il motore grafico non sembra gridare al miracolo, ma svolge egregiamente il suo lavoro presentando delle ottime texture per quello che riguarda i protagonisti e le ambientazioni veramente molto ricche dei dettagli grafici. Una nota di merito anche all'animazione e al ragdoll dei nemici abbattuti durante le varie battaglie. Il motore grafico, proprietario di Blizzard, permette di godere di tutta la sua spettacolarità anche su PC poco performanti, essendo infatti molto leggero. Sotto il punto di vista del sonoro, Blizzard ha sempre curato molto questo aspetto, e con questo nuovo capitolo della saga di Diablo non si tradisce di sicuro. Questo titolo videoludico vanta sicuramente musiche epiche e un doppiaggio che lascia veramente a bocca aperta, soprattutto perché, come in molti titoli non accade, il doppiaggio nella nostra lingua non cerca di inseguire quello originale, rendendo anche le traduzioni molto complete e fedeli all'originale. Per quello che riguarda la longevità, il titolo si attesta attorno alle 20 ore, se giocato in modalità normale. Le ore di divertimento sfiereranno quasi l'infinito, grazie ai suoi molteplici livelli di difficoltà e alla sua natura random. Infatti tutto sarà random, dai mob a loot, fino ad arrivare alla struttura e dungeon sparsi per la vasta mappa di gioco. Inizieremo la nostra avventura scegliendo un personaggio tra 5 differenti classi. Il barbaro, il tank berserker di turno, con molta vita e capace di infliggere enormi danni con gli attacchi in mischio. Il cacciatore di demoni, ossia una classe che attacca sostanzialmente dalla distanza e capace di posizionare delle trappole. Il monaco, ovvero una classe che punta molto su mosse spettacolari e capace di infliggere moltissimi danni a mani nude. Il mago, capace di evocare creature ed usare attacchi arcani sia da vicino che da lontano. Ed infine troviamo lo sciamano, una classe che usa poteri della natura, capace anche lui di evocare temibili creature che lo seguiranno ovunque lui vada. Il titolo si presenta come un hack and slash, ovvero una specie di picchiaduro con visuali sometrica, quindi dall'alto, in cui dovremo usare le migliori combinazioni di skill per poter vincere la classica battaglia. Una volta finita la campagna ci troveremo ad affrontare, come detto prima, molti altri livelli di difficoltà, i cui ultimi veramente molto ardui da completare, in un mondo con la sua vastità e le sue inventazioni davvero molto variegate. Diablo 3 risulta essere il capitolo della saga che tutti stavamo aspettando, semplice ma profondo, infinito e pieno di cose da fare. A nostro parere Blizzard ha fatto centro anche con il motore grafico, che come detto prima è molto leggero e performante. Nota invece di demerito è la non possibilità di giocare senza una connessione internet, infatti dovremo avere una connessione alla rete per tutta la durata della nostra sessione di gioco. In poche parole, se non avete ancora comprato Diablo 3, fatelo, perché non sapete che cosa vi state perdendo. Siamo giunti al termine anche di questa breve recensione e speriamo che gli argomenti che abbiamo trattato vi possano essere di aiuto in un eventuale acquisto che effettuerete di Diablo 3 se vi abbiamo convinto o se qualche trailer vi ha particolarmente colpito di questo gioco. Io a questo punto vi invito a lasciare come sempre una critica piccola ma costruttiva e al prossimo video. Grazie.